Secondo accorgimento su come evitare le maledettissime, costosissime, schifosissime parrucche è sicuramente quello di fare attenzione quando cambiamo gli artificiali infatti noi spinners tendiamo sempre a cambiare gli artificiali e certe volte manco ci facciamo caso e dobbiamo sempre fare considerazioni su quello che stiamo andando a mettere successivamente perché ad esempio i jig non sono tutti quanti uguali ci sono jig in piombo, jig in zinc, jig in tombstone, jig in lega di piombo e zinc eccetera eccetera vogliamo usare magari un palettozzo, vogliamo usare uno stickbait vogliamo usare un top water, certo possiamo utilizzare tutte le cose anche una bella testa piombata con gomma quello che conta è controllare sempre per bene la nostra bobina con le mani vediamo se le spire sono ben strette andiamo, lanciamo serenamente facciamo invece attenzione quando queste spire non sono più tanto ben strette quindi prendiamo un bel palettozzo, lo lanciamo delicatamente per evitare di fare la nostra parrucca e lo recuperiamo energicamente quando le spire saranno ben strette ritorniamo a mettere la nostra esca che vogliamo e andiamo a lanciare tranquillamente grazie a tutti